Dal 24 al 27 maggio torna l'appuntamento con il Radio Days, un ricco calendario di incontri, spettacoli e premi che ogni anno si tiene sulle colline di Sassomarconi. Luogo fortemente simbolico nella storia delle telecomunicazioni, perché proprio qui, tra le sue colline, le sue vallate e i suoi borghi storici, alla fine dell'Ottocento lo scienziato Guglielmo Marconi realizzò i primi e decisivi esperimenti, aprendo dunque la strada ai moderni sistemi di telecomunicazione. Marconi si aggiudicò un premio Nobel, perché la sua scoperta aveva reso più sicura la navigazione. Le navi erano sempre in contatto tra loro e con la terraferma, e moltissimi naufraghi furono salvati. Da quel momento l'utilizzo in senso umanitario delle sue invenzioni diventa una specie di chiodo fisso per Guglielmo Marconi. Fino ai giorni nostri, le scoperte marconiane hanno reso possibile lo sviluppo di radio, tv e telefonia cellulare, delle reti satellitari, del wifi e di tutti i sistemi di comunicazione senza fili. Ancora non conosciamo gli sviluppi futuri delle intuizioni di Marconi, ma oggi le barriere del tempo e dello spazio non rappresentano più un ostacolo, e le persone hanno la possibilità di comunicare a grande distanza guardandosi in faccia. Ad oltre un secolo di distanza, la città di Sasso Marconi intende celebrare il suo più famoso cittadino, dando il giusto rilievo all'evoluzione tecnologica delle intuizioni del grande scienziato, invitando però a fare molta attenzione su come si usano i mezzi di comunicazione e soprattutto a cosa si comunica, cioè al messaggio. Per questo motivo i Radio Days offrono, di anno in anno, l'occasione di conoscere anche i grandi comunicatori del nostro tempo, giornalisti, artisti, personaggi dello spettacolo, dello sport ed esperti in vari settori, che vengono invitati a Sasso Marconi per ritirare un premio e per incontrare il pubblico. L'obiettivo è quello di mettere in rilievo quelle esperienze di comunicazione che danno importanza alle persone, allo sviluppo della società e alla riflessione sui grandi temi che coinvolgono l'umanità. Che siano personaggi famosi o piccoli progetti che hanno tanta voglia di crescere, c'è spazio per tutti qui a Sasso Marconi, nella culla della comunicazione, dal 24 al 27 maggio durante i Radio Days e nel resto dell'anno. Cari amici di Sasso Marconi, un saluto e un abbraccio grande come il Mediterraneo che separandoci in realtà ci unisce. Cari amici di Sasso Marconi, un saluto e un saluto. Cari amici di Sasso Marconi, un saluto e un saluto.